le terre e le punta, luce e luce hai capito? le donne non vuole più a bene con il suo male che tutti i figli in sala che andano retorni le donne di nuovo 3.9, Michael Bresani lui come la scelta, un atto di spazio di Bresani oh, io vorrei dire una